Il sindaco di Carbonia Pietro Morittu e l'assessora della pubblica istruzione Antonietta Melas hanno visitato ieri le sezioni dell'infanzia dell'istituto comprensivo dell'Eda Pascoli in vista dell'anniversario della ratifica della Convenzione UNU sui diritti dei minori che si celebra oggi 27 maggio. Il primo cittadino e l'assessora hanno accolto l'invito delle docenti dell'istituto di Via Roma nell'ambito di un percorso intrapreso e proposto dall'istituto all'amministrazione comunale di Carbonia lo scorso 17 marzo con l'anniversario dell'Unità d'Italia. I bambini hanno affisso sul murale all'ingresso della scuola appositamente preparato per l'occasione i vari doveri della convivenza civile declinati su tante manine di carta colorate che hanno mostrato al sindaco e all'assessora i quali hanno successivamente consegnato a ciascuno le carte di identità spiegando loro con parole semplici l'importanza della giornata odierna. La visita è stata poi estesa alle altre classi dell'istituto. L'amministrazione comunale, hanno sottolineato il sindaco Pietro Moritu e l'assessora Antonietta Melas, è particolarmente sensibile allo sviluppo del senso di appartenenza alla città ed accoglie e promuove ogni azione che mira a tali obiettivi. Questo è solo un inizio, ha promesso il sindaco di Carbonia. Saranno organizzate nuove occasioni di incontro con i più piccoli per far risentire cittadini attivi e legittimi portatori di diritti. Grazie.